lo sto per fare cioè cioè sto provando proverò a fare la strada delle gallerie buongiorno brighielli dio che sono dobbiamo andare sulla buongiorno questa è la prima siamo in colore di ecce buongiorno 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 14 no brighielli non potete capire è stupendo purtroppo non rende assolutamente invidia è stupendo eccoci a 19 318 metri pronti via siamo a metà 26 e 27 non mi ricordo più buongiorno brighielli no canto ciao Cos'è che hai detto, scusa? Dopo, amore, che sei piuttosto pieno di raffreddore. Quando sei arrivato in cima da A? Sì. Vedete gente in cima da A? No. In cima da A? Sì. L'hai finita la setta. Ah, buongiorno. 30. L'hai finita. guarda la mamma che è strazata guarda che brava guarda che brava vediamo se ci saluta prova a chiamarla chiamai mamma mamma forte mamma più forte mamma forno grazie Vallo del Pino 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 Vallo del Pino